Ciao a tutti dal bar Caffè Oveggenza, nuove chicche. Vi ricordo, seguitemi, mettetemi i like, anche perché alla fine di conto sono cose interessanti, piacere. Che vi faccio vedere stamattina? Vi faccio vedere il papero. Vedete il collo del papero. Questo è un papero. Che cosa ha come simbolismo il papero? Il simbolismo sostanzialmente di buona sorte, buona fortuna. Dobbiamo dire che se vi escono i paperi, in verità, si parla sempre di sorte positiva, anche di ritorni economici. Sopra il papero, vedete, perché ci sia un uccellino, guardate. Quindi c'è una novità, perché gli uccellini sono il simbolismo della novità, una novità che ha un significato economico. Quindi, chiaramente, uno è il simbolismo dell'uccellino, l'altro è il simbolismo del papero. Voglio continuare. No, diciamo che abbiamo superato il minuto, quindi vi farò sempre delle pillole senza stressare più di tanto. Grazie per i like. Ciao. Grazie per i like.